Le Barrier Option sono opzioni che si chiudono automaticamente o che vengono eliminate quando il prezzo del mercato sottostante raggiunge il livello da tempo stato. Sono disponibili su indici, forex e materie prime. Il prezzo di apertura di un'opzione barrier è dato dalla differenza tra il prezzo del sottostante e il livello knockout da tempo stato con l'aggiunta di un premio minimo che ti verrà riaccreditato nel caso in cui il tuo ordine venga chiuso senza essere eliminato. Impostando il livello di knockout e la size del tuo ordine sai esattamente qual è il tuo rischio massimo. IG prende in carico l'opzione una volta inserito l'ordine. Profitto o perdita dipendono dal livello a cui vendi l'opzione o dal livello di knockout. Ti verrà adebitata una commissione per aprire o chiudere la tua posizione. Ricordati che le opzioni barrier possono essere solamente acquistate per aprire l'ordine non vendute. Per andare long o short ci sono due tipi di opzione tra cui scegliere call e put. Se pensi che il prezzo del mercato sottostante salirà acquisterai una barrier option call. I livelli di knockout disponibili saranno tutti al di sotto del prezzo di mercato corrente. Se pensi che il prezzo del mercato sottostante scenderà acquisterai una barrier option put. I livelli di knockout disponibili saranno tutti al di sopra del prezzo di mercato corrente. In entrambi i casi se il mercato si muove a tuo favore incorrerà in un profitto altrimenti in una perdita. Il prezzo di un'opzione barrier rispecchia il prezzo del mercato sottostante quindi se il sottostante si muove di un punto anche il prezzo dell'opzione barrier si muove di un punto. Puoi chiudere la tua posizione in qualsiasi momento prima della scadenza a meno che il livello di knockout venga raggiunto e quindi la tua posizione venga eliminata. Fai trading sulle barrier option con AG.